Ancora un rinvio per il progetto di restyling dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Dalla riunione di ieri a Palazzo di Città non è infatti arrivato l'attesa via libera per la ristrutturazione dell'impianto di Viale Pepe per 40 milioni di euro. La soprintendenza alle belle arti d'Abruzzo che già nei mesi scorsi aveva sottoposto a vincolo l'intero impianto avrebbe infatti chiesto la realizzazione di un progetto maggiormente conservativo per tutelare in particolare la tribuna Maiella e le colonne del piccinato considerate di pregio artistico. Il nuovo progetto prevede invece una forma ellittica per il settore di tribuna che andrebbe a contrastare almeno in parte con la visione della soprintendenza. Alla riunione presieduta ieri dal presidente della regione Luciano D'Alfonso hanno preso parte fra gli altri il responsabile della soprintendenza Francesco Di Gennaro, il sindaco Marco Alessandrini, il vice sindaco Enzo Del Vecchio, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, Andrea Bodi presidente della Lega Calcio di Serie B e l'assessore comunale allo sport Giuliano Diodati che al termine della riunione non ha nascosto qualche visione discordante fra le parti in causa pur riconoscendo la volontà comune di realizzare il nuovo impianto sportivo.